E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Criso21 e sono con il mio migliore amico Mazzincre23 Saluta? Va bene, you can't see me, sempre lui Oggi stiamo, siamo stati in giro a fare cazzeggio time E allora Se lo so, non sono in più Però adesso stiamo andando verso casa Perché, ci sa, sono già 10 e passa E ora, non sappiamo cosa fare E stiamo tenendo a casa, giusto? E allora Aspetta che ci salga il scalino No, non era il scalino Comunque oggi Stiamo facendo Una minchiata E allora Ci vediamo dopo quando sono arrivato sotto casa mia, bella Eccomi, tornato di nuovo Che stavo facendo Sono quasi sotto casa mia Come casa mia è molto lontana Sono 10 minuti da dove siamo partiti E allora Ma sapete che questo va su YouTube? Ma noi adesso stiamo girando come dei matti E Infatti che ci per la passata è davanti alla macchina Che non mi piacciono le lance Davanti Vabbè, nel mio amico non c'ha voce No, ve lo scherzavo Non davanti Ma di fianco Che a me le lance non mi piacciono A te Lo prendo come un sì Ok, non so perché ho fatto questa faccia Comunque E ora Noi ragazzi Noi ci vedremo Ok, noi ragazzi ci vedremo domani Quando partire Ragazzi, sto facendo il video Aspettate Ci vedremo dopo O dopo domani Vado a dire Ok, qui siamo io e il mio amico che ascolta la musica E adesso ci vediamo, rega E ci vediamo Perché siamo in leggermente ritardo Bella tutti